... di farvi avere idee, consigli e di mettervi a contatto con degli esperti che possano davvero aiutarvi nel realizzare il giorno più importante della vostra vita ed è proprio loro che io vorrei subito ringraziare perché sono stati tantissimi quindi ringraziamo tutti gli sponsor che sono qua presenti e che potrete vedere sia al piano superiore che al piano inferiore quindi ringraziamo Filippo Cerquiglini per impronta creativa un videomaker di CD, studi estetici, Hotel Colle della Trinità sono tantissimi ve lo dico Sweet Balloons per decorazioni per eventi eccetera che ringrazio perché anche quest'anno ha fatto davvero una grandissima organizzazione un grandissimo weekend dedicato interamente per voi poi il calendario ci ha aiutato per l'appunto visto che quest'oggi è San Valentino quindi la direzione nella figura di Eugenio Miccio e Simone Maniero qua voglio un applauso grandissimo davvero Ciao! Grazie a tutti. 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 Salta. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.